La morte ha sempre il suo fascino. Molte persone ne hanno paura, per cui vivono come se non dovessero morire mai, non pensano che è un appuntamento inevitabile ognuno di noi. Ognuno di noi poi ha una sua concezione della morte. Alcune persone credono appunto che la morte sia un esaurirsi del tutto, una fine fondamentalmente. Altre pensano che invece ci possa essere un premio e quindi una sorta di paradiso, oppure una punizione, quindi una sorta di inferno. E questo premio, questa punizione sarebbe, diciamo, dettata, messa in atto da una divinità che giudica insindacabilmente quali sono state le nostre azioni, insomma, se virtuose o se peccaminose. Ma le persone che credono, diciamo, che con la vita si esaurisce tutto, in teoria non dovrebbero avere paura né di morire né di vivere, perché se stanno vivendo male e questa vita non gli piace, non hanno di che preoccuparsi, perché comunque a breve la morte comunque arriverà. Forse anche tra vent'anni, trent'anni, quarant'anni o cinquant'anni, come tutti si rendono conto, il tempo passa in fretta, per cui questo momento della morte è vicino per tutti, fondamentalmente. Beh, chi invece sta facendo una vita bella, piacevole, insomma, piena di felicità, di gioia, non dovrebbe, dovrebbe farsene una ragione, perché anche qua dovrebbe godersi il momento e poi pensare che, insomma, tanto tutto finirà. Quelli che invece credono che ci sarà una sorta di punizione o di premio, beh, questi devono un po' prestare attenzione, insomma, a quello che fanno in questa vita. Ma tanto in tempi di amnistie si può sperare sempre che ci sia un'indulgenza o qualcosa di questo genere. Nessuno però si preoccupa di come morire. In realtà tutti noi moriamo e non abbiamo difficoltà a morire, insomma, non si è mai visto nessuno che, certo, possiamo soffrire un po', qualche giorno di più, qualche giorno di meno, però poi alla fine tutti riescono a morire. E quindi anche questa dovrebbe essere una preoccupazione. La morte fisica intendo. Invece nessuno si preoccupa di come morire a livello mentale. Perché se la morte è un qualcosa di ciclico che prelude, diciamo così, a un'altra esistenza, se possiamo pensare che siamo nati e morti milioni di volte, forse infinite volte, da un tempo senza inizio, allora è importante capire che morire bene, non tanto dal punto di vista fisico, ma a morire bene dal punto di vista mentale, come attitudine mentale, come direzione della mente che abbiamo nel momento della morte, non tanto nel momento della morte fisica, ma soprattutto se si intendiamo con morte come la liberazione dell'animo, del corpo molto sottile, di stacco dal corpo, dell'animo, che viene leggermente sfasato rispetto al momento della morte clinica, diciamo, della morte fisica. Poi il tempo è comunque relativo. Questo sottosamento può essere impercettibile per persone comuni, per dei monaci o grandi meditatori, può essere addirittura di molti giorni, perché ci sono persone che riescono a mantenere, diciamo così, a restare in meditazione nel momento della morte per tempi veramente lunghi. Però la direzione della nostra mente è fondamentale, perché la direzione della nostra mente grossolana, quindi la mente che abbiamo, va a influenzare direttamente le parti più sottili della nostra mente, e va a influenzare direttamente la direzione che prenderà poi la nostra anima, che andrà a costruirsi prima un corpo, diciamo, nel bardo, anche più di uno, dove ci saranno anche qua delle piccole morti, così vengono chiamate, in modo tale che poi ci sarà una nuova rinascita, che potrà essere, che sarà un costrutto della nostra mente, perché la cosa interessante è che siamo noi che andiamo a costruirci la realtà che andremo a vivere. E se abbiamo una mente direzionata male, piena di odio, di rabbia, di rancore, andremo a crearci una rinascita dove sperimenteremo tutte queste cose, sperimenteremo grandi sofferenze, ma non perché qualcuno ce le impone dall'alto, perché siamo noi che ce le autogeneriamo, diciamo, attraverso il potere creativo della nostra mente sottile. E quindi è importante prepararsi a morire. È una forse delle cose più importanti della vita. Noi spesso ci preoccupiamo di tutt'altro, ci preoccupiamo di cose che poi al pensiero, a pensandoci bene, sono tutte banali, tutte cose inutili, preoccupazioni inutili, il fidanzato o la fidanzata che mi ha lasciato, il marito o la moglie che mi ha fatto le corna, il figlio che va male a scuola, oppure il mutuo da pagare, il lavoro che non si trova, per fare un esempio. Sono tutte cose, sì, certo, di cui dobbiamo occuparci, che però non devono assorbire completamente le nostre energie, perché sono cose che non possiamo portarci oltre. Dobbiamo lasciare sia nel bene sia nel male a chi resterà, insomma. E quindi dobbiamo invece preoccuparci di imparare a capire che cos'è la morte, a sperimentarla già da vivi, a sperimentare perlomeno il processo, quindi le dissoluzioni, la dissoluzione del corpo fisico. E questo avviene naturalmente, ad esempio, durante il processo di addormentamento. Se riuscissimo a prenderne consapevolezza e poi a prendere consapevolezza del sogno, che è la parte, come dire, intermedia tra una vita e l'altra, lo stato di bardo, riusciremo a direzionare sia il tipo di addormentamento, il tipo di sogno che andremo a fare. Quindi, e una volta dentro il sogno riusciremo a determinare il tipo di risveglio che avremo, se è un risveglio felice o se è un risveglio invece già appesantito da incubi notturni. Questa metafora del sonno, sogno, risveglio è esattamente la metafora della morte, del bardo e della rinascita. Per cui, per rinascere bene, per vivere bene una vita futura, a più vite future, anzi direi infinite vite future, dobbiamo imparare a morire bene, cioè con una mente direzionata per il verso giusto, insomma. In modo tale che andremo a, tra le infinite possibili rinascite, a trovarne, a trovare quel filone, diciamo, in cui possiamo veramente crescere come anima e non avere un corpo di sofferenza indicibile, diciamo così. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!